I 68 comuni consorziati del Vicentino che fanno capo a Via Acqua per il servizio idrico integrato hanno un nuovo vertice operativo. Si tratta dell'ingegner Alberto Piccoli che rivestiva lo stesso incarico di direttore generale nell'azienda analoga Acque del Campo S.P.A. nell'Ovest Vicentino, scelto tra 400 profili che si sono candidati nei mesi scorsi per un ruolo ambito e delicato. Dopo le procedure e i colloqui di selezioni a ratificare l'assunzione del dirigente il consiglio di amministrazione dell'acqua preseduto da Angelo Guzzo che ha conferito ufficialmente l'incarico al nuovo amministratore augurandoli il benvenuto. 48 anni dal marzo 2015 aveva assunto il ruolo di direttore generale nella sede di Arzignano maturando un quinquennio di esperienza che si aggiungeva alla direzione precedente dell'area tecnica sempre all'interno di Acque del Bianco. Diplomato all'IBS per geometri cercato di viene. Si è laureato in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio presso l'Università degli Studi di Trento nel 2001. L'accurata selezione è stata portata a termine da una commissione apposita, composta dal presidente di Viacqua Angelo Guzzo, da Marina Dosin, amministratore delegato di una delle principali aziende manufatturiere Vicentine, ed Alessandro Ramazzotti, presidente amministratore di alcune e tra gli importanti gestori dei C-House in Italia.